E oggi andiamo a vedere dei progetti D-Gen, altamente D-Gen, quindi molto molto pericolosi cercando di cavalcare il meta del momento, ovvero progetti gratis, senza roadmap, senza Discord senza principali utilità, guidati esclusivamente dalla community quindi dobbiamo stare davvero molto attenti se vogliamo investire all'interno di questi progetti Partiamo con il primo che è Wizard Sicuramente ne avrete sentito parlare perché è uscito a fine giugno e appena uscito, diciamo, ha cavalcato le prime posizioni all'interno di OpenSea per volumi scambiati nelle 24 ore Io me lo sono perso questo progetto perché ho fatto una mini vacanza e sono stato off dal mondo degli NFT per circa una settimana e sapete bene, una settimana persa e come tre mesi persi all'interno del Web3 Sono andato a recuperarlo però di recente, alcuni giorni fa e lo reputo davvero molto molto interessante È nato come progetto free mint, quindi totalmente gratis e già qui nella descrizione possiamo vedere qualcosa di interessante che vi faccio vedere però subito all'interno di OpenSea Infatti all'inizio avevano una supply di 10.000 item Ma guardate qui, ci sono solamente 8.900 item, pezzi, come supply totali del progetto Ecco, è passata una settimana e già 1.100 item sono volati via Perché? Che cosa sta succedendo? In pratica, come ci dice la descrizione, tutti gli NFT di questa collezione che verranno listati sotto a 3 Ethereum.2 saranno bruciati da un altro wizard quindi da un altro holder del progetto È qualcosa sicuramente di unico Ho già visto questa meccanica ma questo è un progetto che sembra far funzionare questa meccanica Perché, come vi ho detto, ci sono stati già altri progetti che hanno provato a fare qualcosa di simile però sono durati qualche giorno Questo, seppur, insomma, non è che ha una vita lunghissima è uscito fuori il 30 di giugno, il 29 di giugno, se non sbaglio Però, guardate qui, sembra durare Ci sono vendite, ci sono volumi, anche se non eccessivi Una robetta molto molto interessante che appunto il floor price al momento che sto registrando è di 3.1 Ethereum in realtà non è un vero floor perché noi dobbiamo far riferimento, diciamo, all'offerta più alta perché, come possiamo vedere all'interno delle analytics nessuno sta vendendo e nessuno sta acquistando questi NFT per 3 Ethereum ma li stanno acquistando solo su offerte quindi 0.24, 0.24, 0.25, 0.3 Ethereum poi ci sono anche belle vendite corpose di 2 Ethereum Ora vi spiego tutto quello che sta succedendo e perché mi sono... perché questo progetto mi ha incuriosito Innanzitutto, per essere un freemint ha davvero molto potenziale in quanto c'è una storyline, c'è una storia ben organizzata e ben orchestrata che poi va a coincidere con delle azioni che possiamo fare che possono fare gli holder Innanzitutto, siamo all'interno di un regno magico e questi wizard, quindi questi maghi sono andati a scoprire questi funghi magici all'interno di una foresta oscura questi funghi magici hanno il potere di riportare la magia a questi maghi che l'hanno smarrita, che l'hanno persa quindi tutta la flotta di questo castello va alla ricerca di questi funghi però ecco, sembra che ci sono delle persone, dei wizard onesti e degli altri wizard che invece vogliono utilizzare questi funghi non per riportare la magia ma per degli scopi secondari quello che vi sto dicendo, prendetelo con le pinze perché non c'è un discord quindi le informazioni sono solamente su twitter seppur dati appunto dall'account principale però vi dico onestamente non ci ho capito tanto anch'io all'interno di questo progetto vi voglio far vedere che c'è solamente, ho scoperto solamente un founder del progetto che ovviamente non è doxato, quindi facciamo molta molta attenzione perché da un momento all'altro potrebbe scomparire e far saltare tutto per aria però sappiamo insomma all'interno del mondo degli NFT è solito trovare dei founder che non sono pubblici andando all'interno del loro sito web ci chiariamo un po' di più le idee io non sono un holder di questo progetto quindi non vi posso far vedere esattamente le meccaniche però se andiamo all'interno della foresta e quindi abbiamo anche solo uno di questi NFT possiamo andare a guadagnare 100 funghi mettendo i staking i nostri NFT e questi funghi avranno il compito, credo sempre, di andare a chillare altri wizard quindi andando all'interno di questa funzione possiamo andare a chillare gli altri maghi magari i maghi cattivi e per cattivi credo che si intendono i wizard listati ad un floor price inferiore di 3.2 Ethereum quindi andremo in questa sezione e spenderemo 20.000 funghi quindi un bel po' di funghi per andare a ripulire la piazza e ristabilire l'ordine è un meccanismo, se è così, davvero molto molto interessante perché la community si deve unire, deve far forza, si devono far forza tra di loro e appunto andare a chillare, bruciare, togliere dal mercato tutti gli NFT listati sotto a 3.2 Ethereum vediamo, questo è appunto a 3.1 Ethereum vediamo dal momento che stiamo registrando se l'hanno chillato o no nessuno ha ancora bruciato questo NFT quindi un processo davvero molto molto interessante lo possiamo vedere anche graficamente di recenti hanno avuto un bel balzo esattamente un giorno fa erano arrivati ai minimi, quindi a 0.1 Ethereum c'è stato l'annuncio su Twitter, non esiste Discord di meccaniche come quella che vi ho appena descritto quindi dove saranno gli holder a bruciare gli eventuali listing indesiderati su OpenSea quindi non sarà il progetto in automatico a bruciare questi NFT è una cosa che mi piace davvero molto guardate qui, in vendita ci sono solamente 180 pezzi quindi una supply davvero molto molto ridotta per quanto riguarda le vendite le possibilità di vendita molto molto buona questa cosa e infatti andando qui su Icy possiamo vedere che ci sono 5.780 item messi all'interno di questo wallet che rappresenta lo staking quindi molte persone stanno farmando i funghi che per il momento credo abbiano solo la funzione di killare altri NFT e quindi effettivamente andranno bruciati e chi mette un NFT a un prezzo inferiore di 3.2 Ethereum perderà il proprio NFT io come vi ho detto metto le mani avanti perché ho solamente potuto capire e percepire delle informazioni da Twitter non c'è Medium, non ci sono siti dove ci sono approfondimenti c'è solamente la parte di tweet quindi ho letto anche vari commenti da parte della community fatemi sapere qua sotto nei commenti magari voi che avete seguito il progetto fin dalla nascita se ho detto qualcosa di errato o comunque ci sono degli aggiornamenti rispetto alle informazioni che sono andato a trovare quello che farò io è seguire questo progetto cercare di capirne di più perché ho visto che ci sono molte balene nel mondo degli NFT che sono andati a comprare in questi giorni questo progetto qui quindi magari il founder di questo progetto è qualcuno conosciuto nella community perché se le balene si muovono e decidono ora di comprare questo progetto magari tra qualche settimana, tra qualche giorno, tra qualche mese vedremo un balzo del full price e quindi magari l'annuncio di qualcosa di importante per quanto riguarda questo progetto sono andato a spizzare anche il portafoglio che ha creato tutto il progetto quindi tutti gli NFT è uscito fuori una roba interessante infatti c'è un half skill of wizard questo progetto qui che è uscito oggi o ieri è uscito esattamente oggi 4 ore fa c'è stata la prima vendita non credo che qualcuno conosca questo progetto perché non l'hanno pubblicizzato nemmeno su Twitter e sinceramente non vi so dire nemmeno quale utility quale funzione se ci saranno avrà chi andrà a comprare questo metà cranio metà teschio dei wizard probabilmente i wizard che andremo a killare verranno riprodotti sotto NFT all'interno di questa collezione possiamo vedere che al momento ci sono 2000 item e se ritorniamo di qua killati ci sono no 1100 item perché la supply totale era di 10.000 pezzi come vi ho detto seguirò le evoluzioni di questo progetto e magari ne uscirà qualcosa di bello ma ne potrebbe uscire anche qualcosa di brutto quindi state sempre molto attenti ad investire all'interno di progetti free mint o comunque altamente degen come questo passiamo a un altro progetto e andiamo nel degen più totale ovvero project 0x di 38 un progetto uscito da pochissimo vediamo all'interno del loro sito web che il reveal quindi la rivelazione degli NFT dal momento che sto registrando ci sarà tra 9 ore ora vi spiego una robetta una supply totale di 10.000 item vi faccio vedere qual è la NFT in pratica è una sorta di uovo attraverso questo incubatore che farà uscire qualcosa non sappiamo cosa perché appunto tra 9 ore lo andremo a scoprire qui a differenza di altri progetti c'è una roadmap con una fase 1 che appunto è un free mint buildato sulla community e ci sarà all'interno della fase 1 quindi oggi la reveal nella fase 2 ci sarà la costruzione di una serie comics quindi di una serie anime con il merch poi il website 2.0 quindi ci sarà un rebranding di questo sito web per poi aver a disposizione per tutti gli holder di questo progetto la seconda collezione gratis per poi passare alla fase 3 che è in arrivo quindi ancora non sappiamo esattamente quale sarà la fase 3 questa è un'anticipazione magari di come sarà l'anime o comunque la serie di questo progetto dove appunto vediamo un assistente il dottore che beve una tazza con una scimmia di bore d'ape probabilmente non sappiamo se c'è un collegamento ma credo di no comunque loro stanno facendo degli esperimenti su degli animali che si sono estinti all'interno del loro mondo e possiamo vedere uno di queste uova si apre si sta schiudendo e poi becco sembra che attacca il dottore infatti andando all'interno del loro tweet abbiamo uno spoiler che appunto credo che la seconda collezione sia qualcosa in tema animale barra umano mi sono interessato al progetto perché anche qui molti holder soprattutto di goblin town i veri holder di goblin town quindi quelli che hanno acquistato goblin town all'inizio sono andati a acquistare anche degli NFT di questo progetto quindi potrebbe succedere qualcosa come non potrebbe succedere assolutissimamente nulla abbiamo una supply di 10.000 item l'ownership è davvero molto bassa questo vuol dire che molti portafogli detengono tantissimi di questi NFT quindi possono far muovere il prezzo al loro piacimento quindi facciamo sempre davvero molta molta attenzione dal momento che sto registrando il floor price è a 0.1 ethereum lo vediamo anche graficamente si sta stabilizzando intorno a 0.1 ethereum sicuramente perché molte persone magari si preparano a vendere o ad acquistare questo progetto dal momento che ci sarà la reveal io aspetterò la reveal per decidere se entrare magari se ci saranno volumi o se noterò qualcosa di particolare all'interno del progetto attenzione perché magari dal momento che ci sarà la reveal potremmo andare a toccare un bottom di 0.04 ethereum quindi valutate sempre con molta attenzione se entrare o meno all'interno di questi progetti e poi passiamo all'ultimo che è nel diger del diger del diger più totale però è molto simpatico questo progetto NFT totalmente meme assoluto we best credo si pronunci così andiamo all'interno del loro sito web ci dicono che è una collezione di 10.000 item che non sono affiliati ovviamente con l'Avalapse o Yugalapse rappresentano questi CryptoPunks in versione strecciata quindi sono totalmente spremuti sullo schermo una cosa carina sappiamo comunque chi è il founder di questo progetto che è questo simpaticone qui Sterling Crispin quindi meno male è una persona doxata abbiamo anche la sua fidanzata qui su Twitter e andiamo a vedere che è totalmente meme come possiamo vedere ci sono dei tweet totalmente memabili di questo progetto che sono stati già memati altamente vediamo che c'è una roadmap con delle cose assurde tipo creare un discord da hackerare oppure la versione 4D di questo progetto oppure ci sarà un ragpull oppure il listening all'interno di Binance Coinbase comunque exchange centralizzati cosa che è molto molto assurda vediamo che c'è il team il CEO e il CFO e il COO è Sterling Crispin quindi è sempre lui abbiamo l'art director però è l'artista e il lead engineer che è sempre lui come il community manager insomma è sempre lui ovunque e vediamo inoltre che gli investitori sono 3R Capitals Anchor Protocol Celsius insomma tutto nel meme più totale però perché vi porto questo progetto perché anche qui diverse persone diverse balene sono andate a fare degli acquisti all'interno di questo progetto vediamo che è uscito da poco l'altro ieri quindi il 12 di luglio ha raggiunto un top di 0.06 ethereum e adesso lo ritroviamo a un floor di 0.25 ethereum 1700 item in vendita anche qui l'ownership è davvero molto bassa quindi facciamo davvero molta molta attenzione seguirò gli eventuali sviluppi di tutti e tre questi progetti che siamo andati a vedere siamo andati ad analizzare insieme mi raccomando fate molta attenzione nel caso voleste entrare e quindi fare un acquisto perché questi tre progetti potrebbero chiudere da un giorno all'altro o potrebbero portarci to the moon mi raccomando iscriviti al canale con la campanella inattiva se non l'hai fatto e se sei arrivato fino a questa parte del video un bel like di supporto noi ci vediamo presto con altri video